Cinema, arte e storia. Tutto fa politica. Como boccia la proposta di una passeggiata sul lago intitolata la grande attrice Alida Valli, vissuta a Como dall'età di otto anni fino alla giovinezza. Poco più di 200 passi, con tal breve camminamento che parte dal Tempio Voltiano fino ad arrivare percorrendo il lungo lago al monumento a caduti, uno dei punti più suggestivi di questi 200 passi. Però la politica ne ha fatto una questione privata. Quello che doveva essere un omaggio all'attrice nel centenario della sua nascita è finito al centro di bagatelle locali tra partiti, come le ha definite per Paolo De Meglio, nipote dell'attrice. Ieri sera il Consiglio Comunale di Como ha bocciato la mozione presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, Sergio De Santis e Matteo Ferretti, che chiedevano l'intitolazione di una parte del lungo lago all'attrice. A favore della proposta il PD è svolta civica, mentre hanno dato parere contrario 16 consiglieri, Forza Italia, Lega, Lista Rapinese, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto, un solo astenuto il sindaco di Como, Mario Landriscina. Sono sconcertato e rammaricato, ha spiegato De Santis, definendo la seduta del Consiglio, uno squalido teatrino della peggiore politica, un mix di ignoranza della storia artistica di Alida Valli e di negazioni di realtà conclamate, come il rapporto speciale che legava Como all'attrice. Non basta il fatto che Alida Valli sia passata da Como e abbia mostrato apprezzamento per il lago per intitolarglielo, è una delle motivazioni espresse dai consiglieri contrari. La vicenda intanto ha fatto il giro delle maggiori testate italiane. Illario, che da sempre ha affascinato registi e attori, ha scelto di non ricordare un'attrice che ha rappresentato ai massimi livelli l'Italia nel mondo del cinema. Tanta la rabbia dei familiari di Alida Valli e la notizia della mozione bocciata e soprattutto delle motivazioni date dai consiglieri comunali di Como. Siamo profondamente delusi, amareggiati e indignati per l'esito di questa votazione, ha spiegato Pierpaolo De Meglio, nipote dell'attrice. Non solo mia nonna era anche legatissima alla città di Como, dove ha trascorso la sua infanzia e girato alcuni dei suoi film più belli. A chi ha votato contro consiglierei di studiare a fondo chi era Alida Valli e cosa ha rappresentato quest'attrice per il cinema, il teatro e per la storia del nostro paese, non soltanto. E conclude, spero che ci sia un rispettoso dietro fronte. E sulla vicenda, infatti, potrebbe però non essere detta l'ultima parola. L'assessore ai servizi demografici ed elettorali di Palazzo Cernezzi, Francesco Pettignano, ha fatto sapere che qualora associazioni, enti o semplici cittadini raccogliessero le firme per sottoporre all'ufficio competente una proposta simile, l'iniziativa verrà portata all'attenzione del sindaco e di tutta la giunta. Una riflessione quest'ultima condivisa anche dalla collega alla cultura, Livia Cioffi, che ha detto se in giunta qualche assessore si farà avanti per intitolare il lungo lago ad Alida Valli, non avrò problemi ad appoggiarlo. Al momento però Como si dovrà accontentare di ospitare il docufilm di Mimmo Verdesca a Lida, che sarà proiettata a Villa Olmo il 27 giugno. Non sono però esclusi colpi di scena sulla vicenda.